Ciao amici, si rivede e come si può notare da questo sfondo siamo a Siria, mamma saluta a tutti, ciao! Siamo qua anche per la feria, infatti dopo ci andiamo a fare un passaggio però il video in realtà non finisce qui poi sabato ritorno e poi vi faccio anche la versione notturna e la feria, ci sono anche il Palazzo di Spagna che è sempre bellissima Amici, sono dentro la feria, dove ero, vado è bello Amici, sono in una sfiglia, quindi questo vlog è bello Il vlog continua, mi sono nata a casa di Spagna e anzi stavolta mi sono un poco addobbata anche io da spagnola poi a durare il giorno di parte 2 e niente quindi poi mi metto qualche fotina alla giornata di oggi e oggi si conclude la feria, di fatto a mezzanotte sono anni fido artificio quindi è conclusa la feria di Siviglia però io ho l'obiettivo di andare anche ad altre ferie, quindi lo scopriremo Un bacio! fintare fintare Grazie.